GORNITI, POTENZA DEGLI ELEMENTI FURIA DEL COSMO COMBATTI ORION, LA FRECCIA DEL COSMO OK, ORION, Fagli vedere chi sei! CRONO CAOS PROFICA COSMICA CI SEI RIUSCITO PER DAVERO GORNITI, POTENZA DEGLI ELEMENTI ENERGIA DEL MAGMA COMBATTI VULCAN MAGMA AL MASSIMO Ehi amici, che sta succedendo? MAGMA ESFERA MERE RASPAR MERE RASPAR MAGMA ESFERA MERE RASPAR MERE RANSOLO MAGMA ESFERA Grazie a tutti.